buongiorno lunga vita e prosperità come diceva Spock allora volevo rispondere a questo commento figurati e poi non starebbe più su tutto il teatro se quelli nei testi sono alieni quindi mortali perché noi ragioniamo sempre con la nostra testa mortale in realtà ragionando con la testa scientifica della scala Kardashev questo scienziato sovietico poi russo perché lui è rimasto in Russia dopo la caduta del muro Kardashev non ha lasciato l'unione sovietica che era diventata russa è rimasto in Russia questo scienziato Kardashev aveva elaborato questa teoria che anche SETI, gli americani, il progetto SETI aveva diciamo attinto dalle sue teorie lui cosa diceva? che le civiltà si dividono principalmente in categorie in base a come sfruttano le energie ma sfruttare non vuol dire devastare quindi vivere in armonia e sfruttare senza devastare allora il primo tipo di società era la società che sfruttava tutta l'energia del suo pianeta la seconda classificazione era le popolazioni che sfruttavano tutta l'energia del sistema sorare la terza quelle che sfruttavano tutta l'energia della galassia la quarta erano quelle di tutto l'universo quindi immaginati questi tipi di popolazioni o di vita alternativa che non possono essere simili alla nostra o a base carbonio lui ipotizzava addirittura che fossero altre forme magari intelligenze artificiali non munite di corpi mortali ma di intelligenze magari tipo che ne so i Borg voi avevate visto Star Trek con i Borg quindi in realtà noi stiamo continuando a ragionare con la testa terrestre ma chi vi dice che queste civiltà siano a base silicio o a base di qualcos'altro e usino tecnologie diverse comunicano diversamente magari con la preghiera e il pensiero quello che noi pensiamo che sia banale in realtà è la nostra forma di comunicazione più intelligente o